Allora, partiamo dal Presidente Rega. Un matrimonio finito bene. Sì, ripeto, per me è un onore essere qua, è un onore rappresentare il Matese nella carica di Presidente. Farò del mio meglio, come ho sempre fatto nei miei passati da Presidente, quindi a Vairano, dove ho cercato di servire la squadra e la città nel migliore dei modi. Ora, io insieme a Marcellino, dobbiamo guidare questo sodalizio che rappresenta non più una sola città, ma tutto il Matese abbiamo una grande responsabilità e da domani bisogna lavorare al 100% delle nostre forze per far sì che le cose vadano per il meglio. Ovviamente in Serie D per restarci. In Serie D per restarci e con un progetto pluriennale che magari preveda di andare via dalla Serie D, ma verso su e non verso giù. Ok, il Presidente Vicario Marcellino Pepe. La stessa domanda. Cosa ne pensa di questo matrimonio? Sono felicissimo e ringrazio ancora Luigi Rega per la sua disponibilità. Subito posso dire che c'è stato quel feeling dall'inizio che ci ha fatto andare avanti anche in tempi abbastanza brevi. Per far sì che si è potuto arrivare a questo risultato, penso storico, per tutto quanto il Matese e per Piedimonte. Quindi davvero felice. Qualcosa sulla squadra ce la può dire? Sì, noi cercheremo di costruire una squadra nelle nostre possibilità, una squadra che senza dubbio mantenga la categoria, dando la possibilità ai ragazzi dell'Alto Casertano, a quelli che emergono, a quelli che se lo meritano soprattutto, di far parte del gruppo. Insomma, sceglieremo, abbiamo scelto due persone di livello altissimo, sia nel ruolo di direttore sportivo come Raffaele Corzale, che nel ruolo di direttore tecnico come Silvano Romagnini. Ora dobbiamo lavorare per scegliere un allenatore di prim'ordine, perché prenderemo un allenatore di prim'ordine che conosce la categoria e poi allestire un organico importante che ci possa far vivere dei momenti di grande calcio qua a Piedimonte. A proposito di Piedimonte, Marcellino Pepe è un piedimontese, come del resto anche di nascita Luigi Rega. Come farete per coinvolgere la gente di Piedimonte? Intanto quello di presentare il progetto a tutti nella maniera più completa possibile, perché noi siamo convinti di aver messo a terra un progetto davvero importante che sia destinato a durare anche nel tempo, quindi non solo una meteora di un anno. Abbiamo le idee chiare, quindi è chiaro che nel momento in cui riusciremo a dare quante più informazioni possibili, a spiegare le nostre intenzioni societarie, credo che comunque venga tutto da solo. Noi, ripeto, una volta che il football club matese sarà operativo, quindi dall'inizio, ogni appassionato di calcio, di sport, di tutto il comprensore matesino, credo che debba farsene suo sia il simbolo, il nome e la maglia, perché è questo che abbiamo progettato e spero che questa sia l'intenzione di tutti quanti i soci che adesso stanno andando via, ma è chiaro che abbiamo un progetto davvero importante che nel momento in cui andrà, sarà operativo, sarà automatico, insomma, spero il coinvolgimento e la passione che ne scaturirà. Un'ultima domanda a Luigi Rega. Abbiamo visto anche il sindaco qua, progetti per questo stadio. Sì, ovviamente l'amministrazione si è messa a disposizione per ultimare quei piccoli lavori, perché io credo siano piccoli, che servano per rendere lo stadio agibile per la Serie D e questo ci fa piacere. Mi unisco a quello che ha detto Marcellino, cioè che tutti i ragazzi e tutte le persone, anzi dico una cosa in più, che tutti i ragazzi e tutte le persone che hanno voglia di partecipare a questo progetto, sia esso nell'organizzazione degli eventi, delle partite, nel marketing, nella cosa, sono ben accetti e a noi farà piacere se riusciremo a coinvolgerli anche non soltanto come ultras o come tifosi la domenica, ma anche proprio nel vero modo, proprio all'interno del progetto. Questo ci farà molto piacere. Io sono un presidente che arriva qua per servire il football club Matese e il Matese. Non sono un presidente che viene qua per fare il proprietario della squadra o per fare il dittatore. Quindi lo farò con tutta la mia forza e con tutta la mia buona volontà, sperando di raggiungere insieme a Marcellino i risultati che vogliamo. Di conseguenza questa sarà una squadra che andrà sempre di più a diventare una squadra del popolo, una squadra delle persone e che dovrà diventare nel più breve tempo possibile una società autosufficiente che non dipenda più soltanto da una persona. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.